Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è un spoiler di ciò che avverrà nelle prossime puntate di Terra Mara e per la precisione nella quarta stagione dove vedremo Betul, la figlia di Sermine e Jane Gavier che è rientrata nella tenuta. Se non desiderate sapere cosa succederà smettete di guardare questo video in quanto scoprireste fatti importanti per la trama della serie. Vi sto per raccontare cosa succederà nelle prossime puntate a venire di Terra Mara dove vediamo i protagonisti, stavolta Annine, la nonnina di Cucurova e Sermine, la crudele cugina di Demir che viene coinvolta dalla sua figlia Betul che come sempre è sempre dentro nei pasticci. La situazione inizia con Sermine che parla tra sé e sé imprecando contro sua figlia Betul che l'ha messa in questo nuovo guaio e infatti la nonnina Annie è svenuta a Terra con una profonda ferita alla testa da dove fuoriesce molto sangue. Sermine entra di nascosto nella stanza cercando di non farsi vedere da tutti gli altri abitanti della casa poiché sua figlia Betul gli ha detto che aveva fatto cadere la nonnina e che era morta. Sermine appena entra nella stanza della nonnina si spaventa nel vedere Annie a Terra che non risponde più. Si china su di lei e cerca di vedere se è ancora viva. Poi improvvisamente la nonnina spalanca gli occhi guardandola e facendola spaventare. Ma essendo anche lei molto spaventata come vede Sermine si mette a gridare aiuto aiuto e comincia a imprecare contro di lei maledicendola e dicendole che lei è un'assassina e terrorizzata dall'idea che lei la voglia uccidere e quindi continua a gridare aiuto. Sermine è impaurita di poter essere scoperta. Cerca in tutti i modi di calmarla ma Anniene continua a gridare disperata. Allora Sermine prova a zittirla mettendola anche uno straccio sulla bocca. Poi vista la gravità della ferita decide di chiamare Fadik e Gulten. Ma prima parla alla nonnina e le dice di non dire assolutamente nulla che è colpa sua altrimenti la minaccia che di notte le avrebbe uccisa sarebbe andata nella sua camera e l'avrebbe uccisa. La nonnina è spaventatissima da queste terribili parole. Nella stanza intanto accorrono Fadik e Gulten dopo le grita di aiuto di Sermine. A questo punto la scena diventa più interessante e quando le due entrano nella stanza trovano Anniene a terra. Gulten si preoccupa subito per la salute dell'anziano e vorrebbe chiamare subito un'ambulanza ma Anniene la prega di rimanere con lei tenendole la mano e di non andare via. Perché come vediamo molto bene Anniene la nonna di Kurokova sa che Sermine ha cattive intenzioni e dà paura quindi di rimanere da sola con lei. Tuttavia Sermine da dietro le impone il silenzio con gli occhi. Mentre Gulten esce dalla stanza per chiamare l'ambulanza Sermine e Fadik rimangono con Anniene ma Sermine trova una scusa per allontanare anche Fadik e rimanere sola con lei. Anniene la nonna di Kurokova sa che Sermine se rimane sola con lei ha delle brutte intenzioni e quindi ha proprio paura di rimanere sola con lei e la guarda con gli occhi sgranati e terrorizzati. Tuttavia Sermine da dietro le impone il silenzio sempre con gli occhi. Mentre Gulten esce dalla stanza per chiamare l'ambulanza le due rimangono lì ma Sermine fingendosi preoccupata e pur di rimanere sola con Anniene ordina Fadik di andare a prendere un bicchiere di acqua per l'anziana ma non appena Fadik esce dalla stanza Sermine si rivela nella sua vera cattiveria e impone alla povera Anniene di mentire ai dottori e a tutti gli altri e di raccontare di essere caduta da sola e di aver battuto la testa e di non dire assolutamente che è stata Betulla a farla cadere e la minaccia dicendole che se parlerà lei la ucciderà. Questo drammatico scontro tra il bene e il male citerà con il fiato sospeso nelle prossime puntate di Terra Amara. Come andrà a finire la nonnina? Riuscirà a salvarsi? Non perdete l'occasione di scoprirlo. Continuando a seguirci sul nostro canale. Le anticipazioni di questa intrigante serie per oggi terminano qui. Ricordati di lasciarmi un like e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e informati sulle serie turche che preferite. Ci vediamo al prossimo video.